Musica Salve, buongiorno, siamo al Circolo Italia, capofila di un comitato organizzatore di questo CICO 2015, campionato italiano delle classi olimpiche, che ritorna a Napoli per la terza volta dopo le edizioni 98 e 2006. La quinta zona, quest'anno, a distanza di un anno esatto dai campionati giovanili Under 12 e Under 16 del 2014, ha avuto l'assegnazione di questo importante appomentamento sportivo, anzi il più importante del calendario velico italiano. Ci siamo messi al lavoro come un comitato di zona per individuare la migliore squadra organizzativa e l'abbiamo riconosciuta, l'abbiamo individuata nel Tris di Circoli Ultracentenari, cioè Circolo Remo Vela Italia, che ci ospita in questo momento, Reale Yacht Club Canotti di Savoia e Club Naurico della Vela, insieme tre circoli con oltre 300 anni di storia che da queste banchine di Santa Lucia hanno formato velisti, dirigenti, uomini velisti apprezzati a Napoli, in Italia e in tutto il mondo. È un'organizzazione complessa per la quale la zona ha messo in atto una sfida che coinvolge anche altre realtà della Campania, di altri ambiti geografici, mi riferisco a parte altri circoli napoletani con il Circolo Posillipo e Masca al Zono Latino, con Pepul e ancora la sezione velica della Marina Militare per poi passare alla collaborazione preziosa della Marina del Comando Logistico, che ha sede a Nisida. Ancora di più ci sono circoli come la Lega Navale di Pozzuoli, Black Dolphin, lo Yacht Club Capri il Circolo di Salernitani, di Salerno, Lega Navale e ancora gli Amici del Mare, il Circolo Naurico Sapri ognuno metterà del proprio, col gommone, con gli istruttori, quindi una sfida, come dicevo prima che abbraccia non solo questi tre circoli ultracentennari napoletani, ma abbraccia un'intera zona. È una sfida ambiziosa che apre a scenari organizzativi futuri importanti soprattutto perché hanno cambiato rotta, nel senso che abbiamo avviato una sinergia con le istituzioni che ha portato poi alla scelta della Rodonda Diaz, quindi di un palcoscenico naturale che porterà l'evento al di fuori dei confini classici dei circoli e quindi nel cuore della città aperto al pubblico con un villaggio di oltre 5.000 metri quadrati e soprattutto con la voglia e l'esiderio di far parlare di vela non solo in quei quattro giorni ma durante il periodo che lo precede e soprattutto da questa organizzazione spero di poter seglare come federazione con il Comune importanti protocolli finalizzati a candidature di eventi ancora più importanti.